I nostri microfoni hanno raggiunto Massimiliano Monaco, membro della commissione toponomastica che ha proposto al comune di Lucera, la delibera per dare un nome a 16 nuove strade. Tra queste, tre saranno intitolati a dei personaggi tedeschi. Massimiliano Monaco ci ha raccontato chi sono e qual è il loro rapporto con Lucera. Theodor Momsen nasce nel nord della Germania nel 1817. A quell'epoca il territorio era sotto la corona danese e studia all'Università di Chile, all'Università di Berlino, di cui diventa docente, ottiene anche una cattedra. E lì si laurea in legge, per cui sostanzialmente è un giurista e come giurista ripercorre le tappe della storia di Roma. Nell'ambito delle sue peregrinazioni nel mondo latino, la scoperta dei principali elementi della Romanità, si è imbattuto per ben due volte con i reperti della Lucera romana. Nel 1847, fuori Porta Troia, nei pressi dell'attuale Chiesa della Pietà, venne rinvenuta la Lex del Luco Sacra, un'iscrizione che vietava di profanare il Bosco Sacro, pena una sanzione. Questa Lex Lucerino del Luco Sacro era fondamentale per i suoi studi, perché era una delle primissime attestazioni, testimonianze, della importanza dei Boschi Sacri per i latini. Momsen giunse a Lucera da giovane, la prima volta proprio negli anni successivi al ritrovamento di questa lapide, e poi vi ritornò in età più adulta, a 56enne, nel 1873, e fu il momento in cui egli apostrofò i lucerini di distruttori, di patria e memorie. Fu questa un'invettiva che pesa ancora oggi sulla storia della nostra città e la dice lunga sul spirito di conservazione dei monumenti, dei reperti della grande e lunghissima storia lucerina. Contemporaneo di Momsen è un altro tedesco, un prussiano a dire il vero, e si tratta di Ferdinand Gregorovius, di pochi anni più giovane del Momsen. Gregorovius è invece un filosofo, egli si laureò in filosofia, ed è uno storico della Roma medievale e rinascimentale. Le sue opere fondamentali sono appunto un'opera sulla Roma medievale, seguita da un'opera sull'Atene medievale, che rimangono dei punti saldi nella letteratura medievale e rinascimentale europea, e poi la pubblicazione dei suoi viaggi, del suo lungo peregrinare in Italia. Nel 1860 infatti videro la luce alcune raccolte di viaggi, tra cui nelle Puglie, una regione che egli apprezzò moltissimo. Già nelle Puglie si parla appunto di Lucera, e possiamo dire che anche Gregorovius visitò perlomeno due volte la città di Lucera, la prima volta nei viaggi giovanili nelle Puglie, e la seconda volta nel 1874. Da queste due visite nacque l'idea di fondare poi un antiquario municipale, quindi di raccogliere i reperti archeologici sparsi nelle varie famiglie locali, e quindi da qui, da queste due visite, vengono gettate le fondamenta per la istituzione del Museo Civico, che solo nel 1934 verrà intitolato a Giuseppe Fiorelli. Il terzo personaggio storico dell'arte tedesco vive a cavallo fra XIX e XX secolo, come abbiamo appena detto, ed è uno storico dell'arte, Artur Aseloff. Artur Aseloff ottiene una cattedra sia all'Università di Kiel, sia all'Università di Berlino, ma soprattutto è corrispondente dell'Istituto Prussiano di Cultura di Roma, l'Istituto Storico Germanico attuale, che in quegli anni andava effettuando delle esplorazioni nei territori, nei domini svevi, nei territori che in età medievale erano stati appunto alle dipendenze della monarchia sveva, così come i francesi in quegli anni, attraverso l'Ecole Française de Rome, andavano effettuando. Fu quindi inviato dall'Istituto Storico Germanico per ben due missioni, per ben due volte, nella primavera del 1908 a Lucera e poi ritornò nella primavera del 1911. A lui si devono i primi fondamentali rilievi fotografici, rilievi archeologici, anche una campagna di scavi, fu il primo indagatore della fortezza Svevo Angioina con metodo scientifico, un'opera che poi venne pubblicata, posto ma soltanto nel 1992, appunto l'architettura sveva nell'Italia meridionale. Aseloff a Lucera ebbe la possibilità di fare anche degli scavi archeologici, di individuare una all'interno dell'area della fortezza, una chiesetta medievale. Portò poi allo scoppio della prima guerra mondiale, dovette rimpatriare, nei suoi lunghi studi successivi, sia a Roma sia in Germania, poter rielaborare tutte queste ricognizioni, fino poi alla pubblicazione di un'opera fondamentale per l'architettura, la storia e l'arte sveva e primo angioina nell'Italia, che è appunto l'opera che abbiamo appena citato del 1992.